Plutocrati ed oligarchi dominano questo mondo, controllando governi, nazioni ed organizzazioni internazionali, facendo credere di essere illuminati benefattori, tra virgolette, si fanno beffe della democrazia e di Dio stesso. Il suo sarebbe solo il regno dei cieli, ma non della terra sulla quale essi credono di esserne i soli signori. In realtà è Dio che ride e si fa beffe di loro, Salmo II, perché essi non riusciranno nei loro intenti. Saranno i suoi propositi, quelli di Dio, a prevalere, perché è Dio che regna su ogni cosa. Il regno di Dio è particolarmente presente ed operante nella persona ed opera nel Signore Salvatore Gesù Cristo. In Lui e con Lui qui ed ora, uomini e donne, rispondendo all'appello dell'Evangelo, partecipano allo sviluppo del regno di Dio.